Ciao a tutti ragazzi sono io Bink and Kino ed eccoci qua in questo nuovo episodio del let's play di One Piece Pirate Warriors 3 per PC Benissimo siamo arrivati sempre al capitolo 1, episodio 2 però, la storia del pirata Kuro Quindi nel precedente abbiamo battuto Buggy e tutta la sua banda, poi c'è stato il prologo Perfetto, pronti per iniziare questa avventura insieme Prosegui, proseguiamo, Rufy, perfetto, spiega le vere, non c'è bisogno di crash con i Barry Livello 7 intanto abbiamo il nostro Rufy, perfetto Qua ci sono varie... se hai paura di farti un nome non dovresti fare il pirata Capitolo 1, episodio 2, la storia del pirata Kuro, perfetto Accogliendo Nami come sua navigatrice, Rufy lascia la città di Orange e si trisce verso la rotta maggiore con decisione Durante il viaggio Rufy cerca una nuova nave e nuovi membri per la sua ciurma Arrivato al viaggio di Shirop incontra un ragazzo di nome Asop Asop è il più grande bugger del villaggio, racconta sempre frottole per spaventare gli abitanti Ma ha anche un buon cuore, infatti con solo un'orfanella della salute cagionevole di nome Kaya Raccontandole le sue storie Rufy e Asop vanno subito d'accordo mentre parlano sulla spiaggia ai margini del villaggio Assistono per caso all'osco incontro tra il maggior domo di Kaya, Krahador E un uomo che sembra un pirata Infatti il maggior domo Krahador è un ex pirata e sta completando di rubare l'ingente fortuna che Kaya è ereditato dai suoi genitori Perfetto, partono le vignette, come sempre Kuro, capitano liberato di Kuro Neo, ex maggior domo Krahador Quindi i preparativi per il piano sono pronti, vero? E' terribile, cosa hanno sentito le mie orecchie? Questo è Asop, andando che parla Quel maggior domo era in realtà capitano Kuro e mirava agli avere di Kaya Attaccheremo all'alba, uccideremo Kaya per farlo sembrare un incidente e assalteremo anche le altre case Quel che hai sentito è vero Asop, ma non cambierò i miei panni solo perché gli hai scoperti tutti Maledizione, maledizione Siamo nei guai, dei pirati stanno nemmeno ad attaccarci Ancora lui, quello dei falsi allarmi Infatti non gli credono perché dice sempre bugia Ma quella è la volta buona che gliela facciamo pagare Maledizione, dovete credermi, mi uccideranno tutti davvero, prendetelo Perfetto, maledizione, maledizione Io sono un bugiardo, ovvio che non mi credano I pirati stanno arrivando per davvero, no? Sì, ma pensano tutti che è una bugia Credono che come sempre anche domani sarà un giorno di pace Per questo attaccherò i pirati sulla scogliera Farò in modo che diventi tutto una bugia È la strada che devo prendere per fare il mio dovere, di bugiarti Non lascerò che muoio tutto senza che sappiano nemmeno il perché Hai il cuore tenero, eh? Va bene, ti aiuteremo, dice Rufi Te lo dico, il tesoro è tutto mio Ragazzi, perfetto La storia del pirato a curio Personaggi Condizione per la vettura protegge abitanti al villaggio dai pirati di Kuroneiko Condizione per la sconfitta, soppofuggi abitanti al villaggio e vieni decimata Missione numero 1, sconfiggi il capitano dei pirati e medisci l'invenzione del villaggio Prego, perfetto Iniziamo la battaglia Dai, che sono carico Anche questa volta Il nome è capitano, lo so, prendetevi se volete marire Ci sono sempre gli stessi pirati Di tutti gli episodi, sempre gli stessi, ho visto Perfetto Intanto, come sempre Uccidiamo Chiamami quando vuoi Ah, lo possiamo chiamare Con la freccia E combatto insieme a noi In battaglia si può passare ad un altro membro della Churma Inoltre un tipo dell'alleanza E poi rilancando ogni membro della Churma che ha seguito un Gezuna Rush No, giusto, allora è di qua Zora inizia la minzata per intercettare l'attacco dei capitani del kuroneiko Sconfiggi il capitano dei pirati Impedisci l'invasione del villaggio Ah, sono troppi Perfetto Non posso utilizzare Ecco Perfetto Dai Gongo per la flat Nuovo Come sempre Ormai questo attacco Zoro trovandosi un piccolo cieco ha fermato l'avanzante Un piccolo cieco, eh E voi che siete? Perfetto Il capitano dei pirati andando è intervenuto Che sembra più forte degli altri Ma alla fine muore sempre Voglio vedere invece l'attacco combinato di Azop e Rufy se si può fare Per esempio nel precedente episodio abbiamo visto il 300 passion cannon di Rufy e Zoro Che ho capito come attivarlo Perfetto Utilizziamo sempre il nostro Kongo Breath Ok Ah ce n'è uno Non toccato il mio tesoro è entrato in 19 Posso utilizzare l'attacco Quello di cui vi ho parlato poco fa Vediamo insieme Vediamo come funziona Gongom Special Vediamo che attacco è Oversize Cannon Fantastico Fantastico Da provare assolutamente Mi è piaciuto dai Sei bravo Azop Dove dovremmo andare Non c'è una mappa Ah ecco Qua ce ne sono alcuni Ma sono sempre comunque pochi Non c'è la mappa In confronto al precedente episodio Se vi ricordate Perfetto Sono qua I nemici Missione aggiornata Convinci Capitone Bred Le difese del villaggio Stanno imprendendo E cos'è l'avanzato del Zoro e compagnia Dobbiamo cercare di impedire Che conquistino il villaggio Questi strong Perfetto Terminiamo un po' di nemicità Autopo raggiunge lo spazio Devo prendere la barricata La trappola è pronta Non deve fare altro Che attirarsi Ma non so Non ho capito dove Ehi voi ragazzi Questo è lo scorciatore Per il villaggio Sono tutti qui Sempre di più Perfetto Ok Il gongom rifle di nuovo Perfetto Il comandante Ci do dentro anche io Intanto dice ASOP Dai che vinciamo Appena eliminato Prendiamo questo E otteniamo Più 1000 SP Continuiamo a combattere Cercando di impedire L'avanzata dei pirati Malvagi Gli esplosivi Faranno saltare Nella barricata Qualcuno si occupa Di tizzi con le bombe Oh sono là Piccoli Perfetto Uccidiamo un po' di nemici Chiamami quando vuoi Non c'è bisogno Di fare ora l'attacco C'è solo ancora Che palla però Perfetto E' abbastanza Ok Gogom Special Oversight Scannon Fantastico 32KO Sì Abbiamo un po' eliminato Ecco Tanto guadagno soldi Il cappatore Ho raggiunto la barricata Dobbiamo distruggere Quella Ois La barricata è stata distrutta Grazie alle sforze Di zappatore Eh che stanno facendo Stanno iniziando a mettersi Ma se ci fosse una mappa Forse riuscirei a capire Dove dovrei andare Rufio sconvitto 500 persone Mi fa pace Andando Dai Eh dai Ragazzi Uccidiamo Ancora pirati Ce ne sono davvero tanti Perfetto Perfetto Dovrei andare nella barricata Se riesco a capire Dove si trova Perché non è che mi hanno dato Dalle indicazioni La barricata si trova qua No Non mi hanno detto niente Quindi io sono per ora Misorientato Forse di qua Perfetto Ho fatto apparire La mappa Incredibilmente Ecco Dove dovremmo andare Non so come ho fatto Apparire la mappa Sinceramente Ecco qua Ho trovati I nemici C'è pure Zoro Sono messo infatti Zoro Per poter utilizzare La tecnica speciale 300 passi Un canno Perfetto Bene Il nemico Da quella parte Non so perché L'ho utilizzato Sicuramente Dopo che erano morti Ma vabbè Sono iniziato ad avanzare Di nuovo Per difendere il villaggio Perfetto Ovviamente la mappa Ho fatto apparire Perfetto Qua ci sono Gli abitanti Del villaggio Quindi stiamo arrivando Ecco dove ci sono Gli altri nemici Ancora c'è pure Nami Incredibilmente Perfetto Utilisiamo Il gong Sto villaggio È proprio Mi scombito In comandante Delle imboscate Perfetto Meglio così I tesori di queste Nami sono mie Non vi darò Nemmeno un berry Quella per i soldi Proprio E ancora Siamo arrivati Alla saga Degli uomini pesce Fantastica Sarà quella Saga penso La saga iniziale Dove c'è Arlong Non intendo L'ultimo Perfetto Utilizzo i poteri E qua Nami Come potete ben vedere Vi potrete Meteorologici Perfetto Sto scaldando Il nod 12 È il nostro Zoro Sono apparsi Tutti Ora non so Perché Sinceramente Perfetto Missione riuscita Qual era la missione Sconvitto il capitano Dei pirati Perfetto Ciò Che miravo io Perfetto Ce l'abbiamo fatta Pure lei dice Perfetto Quindi Apposto Ah Ecco che c'è Già siamo arrivati Alla fine Cura arriva sul campo Di battaglia Ecco che si sbloccano I fumetti L'ora pianificata È già passata Da un pezzo Capitan Cura E proprio mentre pensavo Che il piano Non procedesse Come previsto Si può sapere Cosa sta capitando Aspetterò ancora un po' Ma se vedrò Che non sarete ancora Riusciti a liberare il campo Vi ammazzerò Con le mie mani Senza risparmiare nessuno Se quelle sono mani Perfetto Abbiamo conquistato La base Intanto E andiamo avanti Capitano dei pirati Intanto Madò quanti sono E che pale Ogni volta Devo eliminare tutti questi Inizio intanto La missione Perfetto Adesso ho iniziato ad avanzare Per costruire una baragata Quella con le baragate Fissata Il potere dell'eroe Si è sbloccato in giro Fantastico Fantastico No 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 Kongo No L'uniti L'uniti È incredibilmente Il territorio conquistato Intanto E questa baragata La prossima la faccio là Ma il territorio Ma il territorio ancora non è libero Quindi perché dovrebbe essere stato conquistato Fantastico Fantastico Niente di più Fantastico Ecco C'è l'ultima Calmati intanto Rufy Noi dove siamo Siamo qui Qua ci sono i nemici Tanti nemici sono Non so più quello che sta succedendo Incredibilmente Incredibilmente sono Troppi Maduro E che palle Nasop ha raggiunto la zona strategica Nasop ha costruito una baragata per formare i nemici Bene Ora non prenderanno Tanto facilmente i villaggi Ehi Kongo Rifle Di nuovo Fantastico Il potere delle ore di Zoro è terminato Ma posso usare quindi solo Rufy Come personaggio principale Mi sarebbe piaciuto utilizzare anche Zoro Per vedere quello che sa fare Quando qua eliminiamo sempre più nemici 1000k o sono riusciti a fare Fantastico Ah 2 e 3 Incredibilmente Gongom Special 3 spade Fantastico Fantastico 300 passion cannon Esce come mossa Livello superiore Quanti Quanti soldi ho guadagnato E ancora ne arrivano Non lo capite che sono troppo forte Perfetto Molto presto la situazione inizierà a digenerare Perfetto Ancora una volta Quest'attacco combinato Gongom Special 3 spade Fantastici Fantastici Tutti Tutti fantastici Ok 18k Sono stati pochi Conquisto il territorio nemico E fermo l'avanzato Il capitano E dai Dai che dobbiamo vincere Eh sì Continua a vincere Sempre di più Ma ne arrivano sempre troppi E non ce la faccio Cioè sono facilissimi Questi Però mi Cioè Mi fanno stancare Con la testiera Non ci saprei mai Giocare In un gioco del genere Sto infatti Giocando con il joystick Perché credo Che sia abbastanza difficile Continua Mi sto scaldando Dice il nostro Zoro Qua Rufy perde sempre poca vita Non sono riuscito ancora a morire Forse Parlo troppo E morirà Ma Perfetto Hai aiutato Zoro Che voleva scappare Utilizzo sempre più combo 1500KO Rufy scompetta 1500 persone L'ho capito Fattoria S La stiamo Per il territorio conquistato Kuro Ma che stai facendo Ucciderò chiunque Rovini i miei pianti A te Aspetti La porta della spiaggia centrale Sono aperta Kuro è iniziato ad avanzare Perfetto Io non aspetto altro Di scontriarmi contro Kuro Missione aggiornata Scompingi Kuro Scompingi Kuro Scompingi Kuro Scompingi vittorio Sono cambiato Perfetto Il problema è trovare Perfetto Perfetto Utilizziamo L'attacco Puoi chiamarmi Compagno Questo in pratica È un attacco Gongom Special Tre spade Quindi quando avrò Più compagni Sarà una cosa Tipo strafiga Come attacco È fantastico Ah ma sono spaventati Che palle È morito È stronzo Sia poter Iniziare a pensare Verso la barricata Nami ha iniziato A combattere con Kuro No Tu non devi combattere Con Kuro Ci manca pure questo Come fa a combattere Non vi giuro Il problema è dove Le bombe No Dove è andato Le bombe restano qui Nami si sta per ritirare No Tu non devi ritirarti Quante cose che ho da fare Sta succedendo di tutto Barricata è assoluta Grazie alle sforze del zappatore Ecco Perfetto Là c'è Kuro Lo deve eliminare Ora Ora mai più Ora mai più C'è Kuro Ragazzi c'è Kuro Fantastico Poi chiamarmi compagno Ecco qui Gongong Special Tre spade Fantastico Kuro è scomparso Non ci renderemo di certo Per questo Perfetto Quando plego la bomba Intanto Sblocca Tutta l'intraccio Le mie panno È il momento di farvi Sparire dalla faccia della terra Che ci urma da strapazzo Con te come capitano Potreste anche essere Incento che Asop non lo battresti Ma Ha ha Queste belle Dimmi Cosa non riuscire a battere Come uomo Tu non sai nemmeno cosa sia Un vero pirata Mi insulti ora Bene Ti farò vedere il terrore Che puoi discutere Un pirata Che ha oltrepassato Numerevoli volte I confini della morte Quella posa L'attacco furtivo Ho intenzione di usarlo Attacco furtivo Capitano Kuro Si fermi Inutile Questo è un passo furtivo Indiscriminato Però troppo velocità Non so nemmeno cosa Stacco al pen Vieni fuori Maggiardomo Cosa pensi che siano I tuoi compagni Utilizzare l'attacco Furtivo Io intanto Cerco di liberarmi Di tutti Questi individui Con le bombe Che mi stanno Veramente rompendo Quello sta distruggendo Qualsiasi cosa Parlando di Kuro Naturalmente Perfetto Niente da fare Niente modo per Non lo letto più Pirati Kunega Raggiunto la partita Capitano dei pirati Eliminato Perfetto Utilizzo sempre più combo Inizio missione Aiuta la sopra Mi disci Movimenti di Kuro Perfetto Dobbiamo andare da qui Ah Quelli sono gli attacchi E qui Però non riesco a vedere Perfetto Eliminiamo un po' Di nemici Sempre di più Intanto per aiutare E qua Soppa lì I nemici Mi stanno rompendo Troppo Sono troppi E che pane Aiuta Soppa E mi disci Movimento di Kuro Perfetto Utilizziamo sempre La nostra Mossa speciale Perfetto Cercava di Frendermi Ma non c'è riuscito Utilizziamo sempre L'attacco speciale Può chiamarmi compagna E uccidiamo Qualsiasi cosa Ci venga Sotto 3 spade Per il 300 passi Un canno Fantastico Come sempre 2000 K Quanti secondi Rimaste Nell'iniziazione Del piano Fantastica Sono troppisti Non c'è riuscito Non c'è riuscito Il cazzo Asop Sta a ritirare Presto Corri in suo aiuto E si trova Capitato E sto a dire Quando Grazie all'attacco Furtivo E' fantastico Uccidiamo tutto Non so dove sia Asop Sinceramente L'ho perso Capitato Peralta Reggendo un battaglio Normalmente Nel territorio Proteggi Asop Fino all'iniziazione Del piano Sapendo dove sia Asop Lo sto proteggendo Sto cercando Di proteggere Adesso Ho i miei amici Qui dentro Non posso Provare la trappola Supportatemi Con i miei amici Che ci hai condannato E preparati E preparati Fantastico E finalmente Puoi chiamarmi compagno Utilizziamo questa mossa Speciale Adesso Gongom Special Tre spade Trecento Passi Un canno Territorio Conquistato Capitato Pirate Se non dà Sempre più Grazie Al tacco Furtivo Fantastico Come Sempre No Ecco Questo curo Mi sta Rompendo Mi sono riuscito Andando Ora Farò Dai Scattererò Curo Andando dove sei Non ti vedo più Ecco qui Che si sblocca Vediamo cosa dicono Curo Sono qui per te Ormai è la fine Preparati Questa è bella Cosa credi poter fare Un coterto Come te Ora Che troppo Sei furbo Ce l'abbiamo fatta Maledizione Non riesco più a mormi Mi fai ridere Beh sei più sicuro Se rimani lì per te Anche se dovesse alzarti Non riuscesti Max Convittimi Anche se non sono Al tuo pari Io ti proteggerò Kai A tutti Abitanti E vi là Non ti lascerò mai Passare Io non ho fatto altro Che dire una bugia Come sempre Il villaggio Inizierà un altro giorno di pace Io diventerò un valoroso Corriere del mare Non ti lascerò toccare Gli abitanti del villaggio Nemmeno con un nido Fantastico Il nostro faccio Coraggio Do battaglia Presentandosi Sono qui Io non voglio Diventare un pirata come te Ecco dove c'è Oh è forte Dammi Metterò che è forte Fantastico Vediamo che con questa mossa Cosa riusciremo a fare Gongom Special 3 spade 300 passi un camion Fantastico E Kuro però È ancora vivo Dove sei? Che dico I stronzi E gli altri Indimitivi Al cuore Sono inneboliti Che palle Però è forte Devo ammettere Rispetto a bug È decisamente Molto più forte Perfetto Oh mi sta colpendo Che stronzi Perfetto Come puoi prendere Il stronzi Se ho provato di farti il nome Dove sei? Kuro Perfetto Ti batto Stronzo Sconviggi Kuro La missione principale Fantastico Utisiamo la nostra mossa speciale Dove sei Kuro? Perfetto Vincerò io naturalmente Perché io non posso perdere Ecco qui Abbiamo battuto Kuro Vediamo un po' Continua a morire in silenzio E questo che pensi? Addio Dannazione Molla Il tuo piano di tre anni Finisce ora Fantastico il nostro Rufy Cosa? Una grande testata Gongom Il mio piano Perfetto Non cambierà il suo corso Campana Gongom Campana Assolutissimamente Un attacco Formidabile Distrutto pure il locale Credi che perderò Contro un pirata Che rinuncia A proprio nome Al mare Io sono Monkey di Rufy E diventerò Il re dei pirati Assolutamente Fantastico Questi episodi Bellissimo Rufy e la sua Jumma Ebbero indone Una nave da Kaia Come ringraziamento Per aver salvato Il suo villaggio Dal pirata Kuro La Going Merry Ragazzi Eccola qui Eccola in tutto il suo splendore Una Caravella Sì sì Lo so che è seconda E la Going Merry Quella Che bella nave Lo so Lo so che è bene Che cazzo Vi prego Aiutatemi Che sta succedendo Dai che sono contento Per aver finito Anche questa avventura Fermato Incredibilmente Da Rufy Di Azzoro Scusate Ok Ecco qui C'è un filmato Che c'era stato Solo nel prologo Un filmato Di questo tipo Grazie a voi mi sono deciso Abbandonerò il villaggio E diventerò un vero pirata Ne sono felice Ne sono felice per te Abbiate cura di voi Un giorno ci incontreremo Perché? Come perché? Che antipatico Non è un pirata come puoi Quindi prima o poi Ci troveremo in mare Ora Gli dice di unirsi alla giurma Giustamente Di cosa stai parlando? Sbrigati E stare al bordo Ci è rimasto Di sasso Siamo compagnini E infatti Ecco qui Che Azzop si unisce Alla giurma Di cappello di paglia Sono io il capitano Andiamo subito Aginio Sono il capitano Bellissima Questa scena Vediamo un po' Tobe Continuate Ecco qui 1608 uccisioni Ottenuto 1193 XP Esperienza 22 minuti di completamento Anzi poco rispetto alle altre Livello 28 Paramish inizia il viaggio Livello 9 È diventato Vediamo quanto ne abbiamo superato Poco penso No 55% Di più rispetto agli altri due Bene È ottenuto in manifestabilità E abbiamo un nuovo personaggio Squadra Di livello 1 Perfetto Qua intanto Otteniamo Barry Ok Saggezza di capitano Ottenuta nel manifesto Amici 500 nemici In una sola battaglia Come Ruffy Quanti Barry abbiamo Davvero incredibile Un nuovo oggetto Sto aggiungendo Negozio Barry Salvataggio in corso Bene ragazzi Avete appena assistito Ad un nuovissimo Episodo Del let's play Di One Piece Ispirato Warriors 3 Per PC Siamo sempre al capitolo 1 Il prossimo episodio Sarà quello 3 Il comandante Greek Ma tutto questo Lo vedete nel prossimo episodio Vi ricordo di tenervi aggiornato Sulla pagina di Facebook Per sapere a quando Usciranno gli episodi Da Vichichino Qui è tutto E alla prossima Ciao ragazzi